Nel cuore di Axum sorge il santuario delle Dar Sion, dove il clero copto conserva gelosamente l'arca dell'alleanza e una copia della legge mosaica, che il primo Menelic avrebbe avuta da suo padre Salomone, oltre una voluminosa storia dell'Abissinia nota con il titolo di Cronaca di Axum, tesori e reliquie che la fanno meta di un incessante affluire di pellegrini da tutta l'Etiopia. Ecco una di queste pittoresche adunate, che accomunano bimbi e vecchi, sani ed infermi, devoti e peccatori, mentre sfila la processione. Cronaca di Axum, tesori e reliquie che la fanno meta di un incessante affluire di Cronaca di Axum, tesori e reliquie che la fanno meta di un incessante affluire di un incessante affluire. Cronaca di Axum, tesori e reliquie che la fanno meta di un incessante affluire di un incessante affluire di un incessante affluire. Grazie a tutti.